buongiorno questo è il mio primo vlog vi dirò quanto costa mantenere 2 125 due tempi allora come manutenzione ne ha di più un kpm e come consumi anche questo perché ovviamente a un motore più spinto di quello del kajiva però devo dire che anche il kajiva consuma abbastanza ovviamente non ha i livelli di un 125 racing appunto come il ktm il tm e molti altri ma in confronto a 125 4 tempi ovviamente consuma tanto di più adesso andiamo a vedere i prezzi allora iniziamo con i prezzi spendo 200 euro in assicurazione ktm 300 euro in assicurazione kajiva 20 euro per 2 di bollo il bollo va pagato ogni anno assicurazione anche 70 euro per 2 ogni 2 anni il collaudo ovviamente obligatorio 150 euro il pistone del ktm ogni 80 barra 100 ore come detto prima poi 15 euro l'odio per fare miscela ogni 2-3 mesi perché io con l'utilizzo che faccio più o meno spendo 15 euro per un litro che mi basta per 2-3 mesi dato che utilizzo il kajiva più o meno una massimo due volte a settimana e il ktm massimo 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 una volta a settimana dopodiché 15 euro per l'olio del cambio perché un litro costa 15 euro almeno quello che compro io lo pago 15 euro ogni 20 ore per il ktm e anche se alcuni lo cambiano a 15 o a 25 io il cambio lo sento leggermente indurito sulle 18 19 ore quindi a 20 ore mentre per la ktm ogni 2000 km anche se molti lo cambiano anche dopo abbiamo 50 euro di lubrificanti vari che possono essere l'olio per la catena l'olio per il filtro diciamo prodotti di questo tipo ovviamente io ho preso tutto con più o meno 50 euro devo dire che questi prodotti penso bastino anche per un anno poi dipende che prodotti si comprano di che marche e quanto li utilizzate io diciamo che il lubrifico la capo ogni uscita quindi prima di uscire lubrifico e poi quando lavo la moto la lubrifico subito dopo dopo che appunto con l'acqua può andare a ruggire mentre per la kajiva non mi ricordo neanche quando è stata l'ultima volta che poi abbiamo 15 euro di liquido refrigerante più o meno con 15 euro compro 5 litri poi dipende anche qua che tipo di liquido si compra di che marca che lo stesso liquido della stessa marca lo puoi trovare a prezzi diversi in posti diversi ovviamente come più o meno tutte le cose dopodiché ci sono 15 barra 20 euro a settimana per la benzina bene come vi ho detto prima io utilizzo la moto più o meno il kajiva una o due volte settimana mentre il ktm massimo massimo una volta settimana per fare un'uscita più o meno di tre orette poi dipende posso stare anche 4 così come posso stare però come media tre ore io per fare tre ore di enduro spendo 10 euro di benzina più quella che c'è dentro che saranno un litro ogni volta e mentre per la kajiva faccio 10 euro e la uso per fare più o meno diciamo che con 5 euro faccio 50 chilometri più o meno dipende come la uso dipende anche dove faccio la benzina dopodiché ci sono le gomme che costano 150 euro ciascuna ciascun kit diciamo che io come gomme per il ktm prendo le medseller six days mentre per la kajiva adesso o le pirelli diablo diciamo che più o meno per due gomme per il ktm si vanno a spendere 150 euro mentre per due gomme per la kajiva si vanno a spendere sempre 150 euro poi la frequenza con cui io le cambio diciamo che è molto bassa perché per la kajiva non ne ho ancora cambiate da quando l'ho comprata ho sempre quelle anche perché appunto utilizzandola una barra due volte a settimana se va bene non si vanno consumate tanto però anche qua dipende tutto da voi quanto la utilizzate e in che modo la utilizzate mentre per il ktm per fare enduro diciamo che se non si fanno pistini in cui si è sempre a manetta possono durare un bel po ovviamente non posso dirvi i valori più o meno come spese c'è tutto per l'assicurazione spendo 200 euro per il ktm e 300 per la kajiva non si sa il perché fatte tutte e due nello stesso posto per il bollo a quello che mi ricordo si vanno a spendere più o meno 20 euro per ciascun bollo e il bollo appunto come Pietro ha detto prima dura un anno gli altri dati sono questi se manca qualcosa scrivetemelo nei commenti ricordatevi che se non volete avere problemi alla vostra moto queste cose dovete fare perché se ad esempio non si cambia il pistone a 80-100 ore ma lo si tiene fino a 150 ci sono possibili rischi di grippare così come cambiando l'olio del cambio si può andare nella ruptura appunto del cambio vi consiglio anche di tenere sempre lubrificata la catena di controllare le sospensioni ogni tanto questo non l'ho scritto però diciamo che è una spesa che non è di cui io non tengo molto conto e ricordatevi soprattutto di mettere liquido refrigerante perché io una volta nel mio vecchio irox avevo lasciato l'acqua d'inverno e mi si era ghiacciata l'acqua dentro e si è formata una crepa sul cilinio inoltre questi sono i valori di quello che spendo io se voi spendete ciclo diverse appunto non vuol dire che io vi sto dicendo dei valori sbagliati ma dipende appunto da persona a persona se volete vedere il mio KTM come era prima c'è il link sotto in descrizione e poi ci sono anche altri video del mio vecchio irox se vi interessano penso di avervi detto tutto se vi piacciono i video di questo tipo se manca qualcosa appunto scrivetemelo nei commenti mi raccomando lasciate un bel mi piace e se volete sostenermi iscrivetevi al canale ciao 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 Grazie a tutti.